Un mese e mezzo fa il Zingato mi ha ventilato questa possibilità di avere qui il festival della Serie A l'ho presa con un piatto a prezzione e mi sono guardato bene da tirlo in attesa perché da parte di Fabrizio c'è un'altra persona che lo sapeva per me di... ma cosa dobbiamo immaginare? Eravamo processionati abbastanza bene nella classifica però, come ben sapete, siamo molti uomini di sport, ma anche mai quindi da cittadino è un bellissimo onore perché è l'occasione per portare la città a un dibattito che arricchisce comunque il gusto culturale della città ma è anche un'ottima occasione per noi, operatori del settore del mondo del calcio di riflessione per la salute dei nostri amminati su quelle che sono anche poi tutta una serie di tematiche che sono veramente molto importanti l'inclusione tra l'università, la lotta al razzismo, la sostenibilità ambientale quindi tutti i temi che per noi come società sono estremamente importanti quindi non solo l'orgoglio di avere comunque un evento di vista importante per la nostra città, ma anche, diciamo, la trattata in città ma anche un'occasione per portare un po' dei tempi sul tavolo e potete contribuire anche noi per quello che riguarda la nostra esperienza quindi grazie, siamo estremamente onorati quanto mai positivo il momento troverete sicuramente un esercizio è estremamente accogliente troverete però sicuramente una sfera ancora più festosa di quella che è normalmente quindi grazie a tutti grazie a tutti grazie